Le persone liberi potrebbero vivere sicuri con il compagno, ma la sua sicurezza non resta sull'estate dell'estate U.S. retaliazione per dettare un attacco sovietico, ma potremmo intercettare e distruggere i missili strategici parlistici prima di arrivare. Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul canale UFO News. Oggi vi presento quella che in questo momento sta incalzando, cioè l'intervista di Bill Nelson, l'attuale amministratore della NASA, il quale ha rilasciato qualche giorno fa un'intervista che poi, nell'arco di alcuni giorni, è diventata sostanzialmente virale a livello planetario. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un'intervista che ha visto lui come protagonista di alcuni punti importanti che riguardano la vita extraterrestre, i mondi abitabili e persino il fenomeno dei UAP. Sostanzialmente ciò che è emerso dalla sua intervista può essere racchiuso in alcune informazioni importanti che sono state confermate dello stesso Bill, come ovviamente scienziato, come rappresentante della NASA e naturalmente come personaggio di spicco a livello scientifico che si sta occupando delle indagini e delle investigazioni sul fenomeno dei UAP proprio a livello governativo su incarico del congresso americano e del governo americano dopo la consegna del report provvisorio del giugno di quest'anno, del 2021. Sostanzialmente Bill dice che là fuori ci sono miliardi di pianeti in miliardi di stelle, queste miliardi di stelle sono praticamente in ogni galassia e là fuori ci sono miliardi di galassie e probabilmente ci sono anche miliardi di universi. Sostanzialmente ci dice che il pianeta Terra non è l'unico del suo genere e che là fuori ci sono diverse terre e che probabilmente nell'universo in queste terre si sono sviluppate altre civiltà come la nostra, tra virgolette come la nostra perché naturalmente si parla di civilizzazione in qualche modo che hanno strutturato la propria esistenza sulla tecnologia, lo sviluppo tecnologico, l'esplorazione dello spazio e la comunicazione e in qualche modo potremmo dire uno sviluppo simile a quello degli insetti e quindi dell'alveare, del nido e via discorrendo, cioè della vita collettiva, in questo caso umana, collettiva probabilmente anche da parte di extraterrestri piuttosto che invece su una vita individuale formata e composta proprio al centro con l'individuo. Naturalmente si evince anche che il fenomeno UAP è un fenomeno reale, si parla di ben 300 casi ufficiali che sono lo stato attuale al vaglio e dichiaratamente veritieri da parte del governo e degli organi competenti degli Stati Uniti d'America, quindi anche della NASA in questo caso che si stanno occupando della questione. Naturalmente citando il caso del 2004 e anticipando tra l'altro una risposta che molti degli ascoltatori, degli spettatori stavano pressando sul giornalista di andarla a fare proprio a Bill e sostanzialmente questa risposta è arrivata perché viene sostenuto apertamente che ciò che hanno visto i piloti della US Navy, in particolare della Nimitz, che vengono sempre citati nel caso dell'UFO Tic Tac, sono ovviamente confermati e gli oggetti sono sconosciuti e ci dà un'ulteriore conferma dicendo che lui ha potuto visionare, ha potuto discutere, commentare, ascoltare anche i piloti, gli ex piloti e anche lui in qualità di rappresentante della NASA non sa esattamente la provenienza di questi oggetti, si spera che non appartengano ad una nazione avversaria e quindi probabilmente, ma non è certo, potrebbero essere di origine extraterrestre. Questi sono i punti salienti dell'intervista, adesso vi mostro l'intervista a cui inserirò sopra l'audio con le parti tradotte in italiano, quelle più salienti, con la mia voce naturalmente e mi scuso anticipatamente essere ancora abbastanza rauca per una tracheida che mi sto portando avanti da qualche tempo e che spero che chiarisca soprattutto naturalmente alla comunità italiana che sta richiedendo con pressante attenzione una traduzione di questo video e che possa esservi chiaro e darvi delle risposte. Cosa pensi che stiamo facendo su Marte? Che stiamo cercando la vita? Questa è solo una parte della missione della NASA Questo è ciò che questo telescopio cercherà Ci sono altri pianeti altrove dove c'è vita Ora, io so quello che ho visto, quello che hanno visto i piloti della Marina nel 2004 e ci sono stati circa 300 avvistamenti da allora e ho parlato con quei piloti e sanno che hanno visto qualcosa e che i loro radar si sono bloccati su di esso e poi all'improvviso era lì in superficie e poi era lì in un altro luogo e loro non sanno cosa sia e noi non sappiamo cosa sia Speriamo non sia il nostro avversario qui sulla Terra ad avere quel tipo di tecnologia ma c'è è qualcosa e quindi questo cerchiamo ma è un'altra missione Poi Bill si pone tutta una serie di domande Per esempio cosa c'è là fuori chi sono come si sono sviluppati e porta un paragone al come si è sviluppata la civiltà terrestre e quindi al fatto che c'è la possibilità che come la civiltà terrestre si siano sviluppate altre civiltà nell'universo in un universo che ha miliardi di stelle e che queste stelle sono contenute in miliardi di galassie e poi dice che non riesce a concepire quanta vita è possibile nell'universo Il giornalista quindi dice che Bill ha anticipato la risposta ad una domanda insistente da parte del pubblico che riguardava i UAP dei piloti cioè del caso Tic Tac dell'OSS Nimitz e ha fatto che molti giornali hanno detto che si potrebbe trattare di tecnologia russo-cinese ma molto più probabilmente di tecnologie extraterrestre e quindi di conseguenza chiede a Bill qual è la sua teoria quella più comunque accreditata secondo lui riguardo a questa questione Larry non ho la risposta ma la mia opinione personale è che l'universo è così grande ed ora addirittura ci sono anche teorie che potrebbero esserci altri universi e se è il caso qui si può dire che il pianeta Terra è l'unico l'unico luogo dove si è sviluppata la vita civilizzata e organizzata oppure no ma ti dirò cosa penso penso che sia meglio essere migliori amministratori di ciò che siamo perché siamo messi male e stiamo rovinando proprio tutto il mondo in cui ci trattiamo male l'un l'altro quindi so qual è la nostra missione essere migliori amministratori migliori di questo amministratori migliori di questo pianeta ed essere cittadini migliori del pianeta Terra ma ci sono altri pianeti là fuori altre terre lo penso con sicurezza perché l'universo è così grande prima di arrivare alla conclusione di questo video naturalmente vi ricordo l'importanza di iscrivervi al canale UFO News cliccando la scritta iscriviti oppure cliccando il piccolo banner che trovate in basso a destra in tutti i video che vi appare naturalmente quando state navigando vi ricordo di attivare il campanello se volete essere avvertiti ogni volta che esce un nuovo video sul canale YouTube in questo modo sarete costantemente avvertiti e potrete visionarli immediatamente detto questo ovviamente vi ricordo di mettere un like ai video e se è possibile farli circolare nei social soprattutto perché ultimamente diciamo sto incontrando parecchi ostacoli i miei account vengono bloccati in continuazione stanno funzionando tra l'altro male cosa che a quanto pare è abbastanza diffusa e non è per fortuna almeno nel mio caso mirata naturalmente vi ricordo che potete sempre lasciarmi nei commenti purché questi siano costruttivi dei consigli oppure naturalmente che riguardino i video i commenti all'interno dei video eccetera eccetera io sono sempre disponibile purché ci sia buona educazione da parte di chi commenta a interagire con voi anzi per me è una delle cose più importanti anche se per il momento non si va in diretta però si può interagire anche diciamo nel tempo con un botto e risposta nei video spero che il video sia stato naturalmente di vostro gradimento e naturalmente Gabriele Lombardo e Ufo News vi mandano un saluto ci vediamo alla prossima sul canale Ufo News parentesi prima di lasciarvi vi ricordo anche di seguire il sito statodiemergenza.com ciao ciao